E chi ce ne farà dimenticare tutte ste sofferenze, tutte ste ansie, ste paure? Eh ma, Cristo non ci vede. Tanti mi fanno questa domanda, Sorapina. Cristo non ci vede. Ma siamo sicuri di non averlo meritato, questo flagello? Siamo sicuri di aver sempre vissuto secondo le leggi del Signore? Nessuno pensa di cambiare vita, di ravvedersi. E poi quando i nodi arrivano al pettine, tutti si disperano e fanno domande. Ma non ci vede il Signore? Non ha pietà di noi il Signore? Sì, il Signore avrà pietà di noi, ma abbiamo tanto da farci perdonare.